10 idee per arredare in stile total white Il bianco è sinonimo di eleganza e purezza, perfetto per vari stili d'arredo, dal shabby chic al moderno tecnologico. Ecco 10 idee di tendenza per arredare con gusto e dare un tocco raffinato alla tua casa con il bianco. Un ambiente total white regala luminosità e ampiezza, ideale per chi ama semplicità ed eleganza. Scopri vantaggi e svantaggi dell'arredare in bianco, trasmette tranquillità ma richiede attenzione ai dettagli.